Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, il podcast che parla di grandi storie e grandi birre. Io sono Roberto e come sempre, prima di cominciare, vi ricordo di iscrivervi al canale, commentare e mettere mi piace. Aiutatemi a far arrivare questo canale a più persone possibili. Come dico sempre, siate curiosi e non fermatevi alla prima. Vi faccio vedere un numero, eccolo qua, sono più di 8000 persone che guardano i video della versione di Barley e non si iscrivono. Se queste 8000 persone si iscrivessero, io sarei già a 10.000 iscritti. Per voi non costa nulla, per me cambia tutto. Quindi davvero, per favore, se vi piacciono questi video, iscrivetevi al canale, è fondamentale. Oggi parliamo di Megalopolis, o almeno ci proviamo perché è un film che mi ha lasciato senza parole. Mi avrà lasciato senza parole nel bene o nel male. Scopriamoli insieme dopo la sigla. Camera e mother fucking sound! Megalopolis, ragazzi, Megalopolis che mi ricorda troppo Megaloman. Ve lo ricordate Megaloman? Telefilm fantastico con una sigla fantasmagorica. Vorrei davvero parlarvi di Megaloman al posto di Megalopolis. Perché questo film mi ha fatto veramente incazzare. Non solo il film in sé, ma tutte le cazzate che gli sono nate intorno. Tipo, è un film che verrà capito fra trent'anni, mette in discussione l'idea stessa di fare il cinema, è un'opera troppo grande per il pubblico contemporaneo. Ragazzi, ma che cazzo dite? Un film si può giudicare da tante cose, alcune oggettive, altre invece soggettive. Può succedere che un film scritto male è girato così così, vada a toccare delle corde tue personali, fino a farti dire, però dai cazzo, questo film mi è piaciuto. Poi però c'è tutta la sfera un pochino più tecnica, un pochino più professionale, che bene o male va tirata fuori in una recensione, se no davvero di che cazzo parliamo? Bisogna parlare di regia, di fotografia, di sceneggiatura, di recitazione. In più, e su questo aspetto io ci spingo tanto, perché è un elemento delle storie a cui io tengo particolarmente, bisogna parlare anche di senso. Porsi la domanda, che senso ha questo film? Che senso ha questa storia? Cosa ha voluto veramente dire? Dove vuole veramente arrivare? Per esempio, io che non sono un fan di Miyazaki, ho visto Il ragazzo e l'airone e non ci ho capito un cazzo, però poi ho studiato e ne ho capito il senso. Ho capito il senso di un film che comunque non mi era piaciuto, perché un senso ce l'aveva. Oppure uno dei miei film preferiti dell'anno scorso, cioè Asteroid City di Wes Anderson. Per me è un capolavoro proprio di senso, ricco di sottotesti, di riflessioni implicite sulla vita, sulla morte, sull'esistenza, sul perché viviamo in un certo modo. Eppure non è stato un film particolarmente amato dal pubblico, perché era difficile carpirne il senso. Però anche in questo caso il senso c'era. E viva il cinema che ti sfida a fare quel passo in più. Con Megalopolis invece non devi fare nessun passo in più. O in avanti, anzi, devi fare un passo indietro nell'evoluzione. Anche solo per provare a reggerlo fino alla fine. Ti devi praticamente identificare nella poltrona su cui sei seduto al cinema, per avere qualche minima possibilità di arrivare alla fine senza cedere al fortissimo desiderio di alzarti e andartene. Anzi, secondo me, Megalopolis dovrebbe diventare il test ufficiale di chi produce le poltrone per le sale cinematografiche. Se arrivi alla fine, ok, le poltrone sono perfette. Se non ce la fai, le poltrone vanno cambiate. Grazie al Dio del cinema, sono andato a vedere Megalopolis in una sala nuova di pacca, cioè il nuovo cinema centrale a Lucca che ha delle poltrone fantastiche, nuovissime, grandi e comodissime. Meno male. E badate bene, io sono uno che studia, sono uno che va a fondo. Lo so da dove viene questo film, ma anche dopo aver studiato, continuo a pensare di aver buttato quasi tre ore della mia vita a fissare il nulla cosmico. Il regista, Francis Ford Coppola, di certo non ve lo devo presentare io. O forse sì. Perché Coppola, secondo me, più di ogni altro regista della sua generazione, gode di una fama di genio autore superiore a quelle che sono le sue reali capacità. Attenzione, non capacità artistiche o tecniche o specificatamente registiche, ma capacità di perdurare, persistere in un certo senso, sopravvivere al media che lui ha scelto per esprimersi, cioè il cinema. Ci sono diversi registi della stessa generazione di Coppola che non sono riusciti a perdurare e a sopravvivere al cinema. Penso soprattutto a Brian De Palma, Michael Cimino, in un certo senso anche George Lucas, mentre altri, come soprattutto Spielberg e Scorsese, non solo perdurano, ma ancora oggi sono dei punti di riferimento per le nuove generazioni di aspiranti registi. Cosa ha Coppola di diverso da tutti i registi che ho citato fino adesso? Beh, direi un mix letale tra megalomania, una particolare avversione verso il concetto di autorità, nel senso ha sempre voluto fare come cazzo gli pareva, senza dare conto a nessuno, un'idea di libertà completamente dissociata dalla realtà economica del cinema americano. In più Coppola, nella sua carriera, ha avuto a disposizione soldi. Tanti, tanti soldi. Soldi che però, a differenza dei suoi colleghi, non ha speso per diventare semplicemente un ricco regista, ma che ha provato ad usare come leva per tentare forse l'impossibile, cioè cambiare le regole di Hollywood dal suo interno. Con i milioni di dollari guadagnati tra il 1972 e il 1979, anni tra i quali ha realizzato in ordine Il Padrino, La Conversazione, Il Padrino Parte Seconda e Apocalypse Now, Coppola infatti diede vita ai Zoetrope Studios, una vera e propria utopia cinematografica. Degli studios in cui registi di tutto il mondo potevano venire a girare i loro film liberi da qualsiasi costrizione economica o da qualsiasi rottura di cazzo da parte degli studios quelli veri considerati da Coppola ormai come dei dinosauri in via di estinzione. Negli stessi anni in cui gente come Spielberg e Scorsese realizzava dei film che di fatto sono entrati nella storia del cinema come per esempio E.T. e Toro Scatenato, Coppola costruiva questa realtà parallela a Hollywood un po' fricchettona all'interno della quale ha realizzato il film One from the Heart. Non l'avete mai sentito nominare? Beh, la cosa non mi stupisce perché One from the Heart floppò talmente male che Coppola dovette vendere gli Zoetrope Studios per pagare i debiti che aveva fatto per realizzare il film. Il film costò 23 milioni di dollari del 1982 che sono poco più di 75 milioni all'inflazione attuale e ne incassò in totale 716 mila che all'inflazione attuale sono poco più di 2 milioni e 300 mila dollari 75 milioni di spesa per un incasso che non arrivava neanche a 2 milioni e mezzo. Cosa ci dice questo dato? Che Coppola per quanto sia un grande regista di business cinematografico non ci capisce un cazzo. Ed è una storia davvero tragicomica quella di un grande artista che investe tutto quello che ha per realizzare l'utopia di un cinema libero per poi essere costretto a vendere questa stessa utopia perché per realizzarla ha perso tutto quello che aveva o meglio perché il frutto di questa utopia non ha incontrato i gusti del pubblico però per fortuna o purtroppo il cinema lo devi fare per un pubblico. Da quel flop in poi la carriera di Coppola non si è praticamente più ripresa è andato in bancarotta per ben tre volte e ha sempre dovuto accettare di girare film a contratto perché era un debito ambulante nel frattempo ha trovato una grande fortuna imprenditoriale nella produzione di vino bene così almeno lì non può fare danni e invece i danni li farà anche lì ma ci arriviamo dopo quindi ricapitoliamo un attimo autore di un certo spessore grande personalità un po' megalomane e restio alle regole ma comunque un regista che porta soldi agli studios parte per la tangente credendosi evidentemente un remida in grado di trasformare in oro tutto quello che toccava e fa tanti di quei buchi in terra che la regista super indipendente diventa praticamente un dipendente delle poste con una telecamera in mano in questo contesto psicologico e professionale Coppola legge un libro intitolato 12 Against the Gods di William Bullito un libro che racconta la biografia di 12 grandi figure del passato che hanno sfidato appunto gli dei dei intesi come tradizioni o potere politico o economico che sia per realizzare i loro grandi sogni e le loro grandi utopie personaggi come Alessandro Magno Cristoforo Colombo Napoleone e un tale Lucio Sergio Catilina la storia di quest'ultimo personaggio cioè Lucio Sergio Catilina letteralmente folgora Francis Ford Coppola sia per le qualità narrative della storia di questo personaggio sia per le similitudini con la storia di Coppola uomo ora momento Alberto Angela in breve Lucio Sergio Catilina è stato un generale e politico romano che nel 62 avanti Cristo ha cercato di sovvertire il potere oligarchico del senato romano cercando di avvicinare gli elettori quindi la plebe alle istituzioni stesse di fatto azzerando i privilegi elitari che davano le cariche pubbliche equiparando i cittadini semplici ai politici una società utopica basata sull'uguaglianza sociale senza classi un'idea politica che ovviamente lo ha portato a morire ammazzato per mano dello stesso senato romano ti immagini già allora l'uguaglianza sociale ma che cazzate Coppola nell'utopia di Catilina ci rilegge l'utopia dei suoi zoetrope studios ma soprattutto ci legge l'ostracismo di Hollywood che ha gioito al suo fallimento e metaforicamente ne ha ucciso le velleità artistiche e autoriali così come il senato romano voleva preservare i suoi elitarismi Hollywood voleva preservare i suoi ad ogni costo e proprio in quegli anni siamo verso la fine degli anni ottanta Coppola mette tutte queste riflessioni in un calderone creativo e inizia a scrivere la sceneggiatura di Megalopolis la cui prima sesura leggenda narra che fosse composta da ben 400 pagine ma in quegli anni Coppola era considerato un flop maker nessuno voleva produrre le sue idee assumerlo come regista non era un problema perché godeva di parecchi crediti ma una sua sceneggiatura di 400 pagine intitolata Megalopolis ispirata alla vita di un politico romano del 60 avanti Cristo no grazie la sceneggiatura nella sua primissima ideazione era in realtà una storia molto accattivante in un'america raccontata come una Roma imperiale quindi grandiosa e decadente allo stesso tempo erosa da conflitti interni politici ed economici un satellite cade su New York distruggendone una gran parte un visionario architetto di nome Caesar Catelina inizia così una faticosa battaglia politica e filosofica per approfittare di questo disastro per ricostruire una New York diversa aperta a tutti senza più classi sociali ecosostenibile un vero e proprio faro per il futuro di tutte le civiltà ovviamente i vecchi dinosauri legati al vecchio potere che nella sceneggiatura sono caratterizzati dal sindaco di questa città e da un ricchissimo banchiere non volendo perdere proprio i loro privilegi di classe ostacolano questo progetto cercando di screditare Caesar Catelina agli occhi del popolo e poi facendolo fuori beh devo ammettere che la storia raccontata così non è male però stiamo parlando di Francis Ford Coppola e ai tempi l'unico modo di realizzare questo film era quello di autofinanziarselo perché nessuno gli dava più credito e Coppola che fa decide di vendere una buona parte della sua azienda vinicola per finanziarsi le riprese di Megalopolis mannaggia a lui oh non ce la fa a non buttare via i suoi soldi non ce la fa ovviamente la sceneggiatura negli anni viene stravolta soprattutto dopo l'attentato alle torri gemelle del 2001 ma non solo viene stravolta dal mondo che semplicemente continua a girare e va avanti per la sua strada trasformando un soggetto sicuramente avveniaristico per gli anni 80-90 ma per i tempi moderni già obsoleto comunque Coppola spende 120 milioni dei suoi dollari per girare Megalopolis e la domanda mi sorge spontanea ma chi te l'ha fatto fare qual è il senso di questo film esattamente cosa ci volevi dire che i soldi sono cattivi e invece i poveri sono buoni e devono poter accedere ai benefici di chi ha invece i soldi che però sono cattivi oh wow non ci avevo mai pensato la trama di questo film uscito adesso di Megalopolis è più o meno come ve l'ho raccontata il problema è che la trama è nascosta nei meandri di un nonsense narrativo fatto di temi e sottotesti che partono all'improvviso e sembrano non finire mai distraendoti mortalmente da quello che è il plot principale la trama inoltre è soffocata da una fotografia insopportabile e da una recitazione molto difficile da decifrare mentre guardavo Megalopolis ho avuto la sensazione che anni fa Coppola avesse davvero scritto una grande sceneggiatura ma che poi a pochi giorni dall'inizio delle riprese l'avesse persa avesse perso l'unica copia esistente quindi è andato sul set cercando di girare quello che si ricordava dando qualche indicazione agli attori ma di fatto dicendogli fate come cazzo vi pare Megalopolis attorialmente parlando è una lunga lunghissima performance di improvvisazione a tratti insopportabile perché quando un attore recita la parte di una persona triste felice o arrabbiata per far sì che la sua recitazione sia credibile sono fondamentali le motivazioni di quel personaggio senza motivazioni stai semplicemente scemiottando la tristezza la felicità o la rabbia ecco Megalopolis è esattamente questo è una bozza di storia che viene raccontata scimmiottando tutte le emozioni che quella storia dovrebbe far provare ai suoi stessi personaggi ma sotto sotto le emozioni non ci sono e quindi neanche le motivazioni e quindi neanche i personaggi e quindi neanche il film è molto difficile parlare di questo film perché non è un film è il lungo cazzeggio di un regista che semplicemente ha trovato il modo e la maniera di realizzarlo come cazzo voleva lui però l'ho già detto il cinema esiste se c'è un pubblico e questo film non ha pubblico non è nemmeno it's so bad it's good arrivare alla fine di Megalopolis per me è stata una tortura e secondo me non mi sembra neanche di essere troppo cattivo se dico che questo è il naturale epilogo della carriera di Coppola non ci trovo niente di fuori contesto nel senso è un regista che non ha mai fatto quello sforzo in più per tirarsi fuori dalla sua stessa megalomania però ragazzi che fatica arrivare alla fine di questo film non abbinerò nessuna birra specifica a Megalopolis di Coppola però ho deciso di abbinare il concetto di megalomania nelle birre artigianali che soprattutto in Italia ha un po' rovinato l'intero movimento della birra di qualità perché nell'ambiente birra artigianale italiano negli anni si è sviluppato una sorta di nerdismo che ha spinto i birrifici a fare birre sempre più strane sempre più estreme sempre più megalomani che però non avevano un pubblico quindi quello che è il pubblico di massa quello che premia le birre commerciali perché non sanno di niente sono tutte uguali si è allontanato dal mercato dell'artigianale perché una birra con ingredienti troppo strani per il pubblico medio invece di avvicinare ha allontanato e ora tutto l'ambiente birra artigianale sta cercando di correre i ripari quindi di fare un passo indietro quindi birre tradizionali birre tedesche birre belga eccetera eccetera ma potrebbe essere troppo tardi speriamo di no megalopolis forse lo trovate ancora al cinema io non credo secondo me l'hanno già tirato via perché almeno la mia sala era deserta e ci credo abbinato al concetto che ragazzi i megalomani in qualsiasi contesto che dipende da un pubblico non possono funzionare mi dispiace per loro ma mi dispiace anche per noi che ci dobbiamo sorbire le loro opere e dalla versione di Barley è tutto buona visione buona bevuta non fermatevi alla prima e ragazzi iscrivetevi al canale 8000 persone che mi guardano e non si iscrivono dai che vi voglio bene ciao e Grazie a tutti.